Sarà diverso da voi. È speciale. Magari sarà un po' meno agile di voi, un po' meno veloce. È come le tartarughe ninja. Mio fratello era più che speciale. Era un supereroe. Tuo fratello è un caso eccezionale. È così forte. Dio mio, non so cosa si dica in questi casi. La verità è che mi avete fatto credere che era un supereroe. Siete dei bugiardi! Crescendo ho capito quanto mio fratello fosse speciale. No! Ma poi Joe avrà amici. Come stai? Non posso. Una fidanzata. Tu mi avevi detto di avere solo due sorelle? Mio fratello è morto. È la prima volta che parlo con Arianna. E gli devo dire sì, ho un fratello ed è down. Credo che si sia innamorato. Sta ore e ore in bagno a sistemarsi nella frangia. Non ti riconosco più Jack. Lui è genialità, ingenuità al tempo stesso. Joe è uno che quando si trova in un corridoio corre perché nei corridoi si corre. Joe è uno che ogni mattina si sveglia e ti chiede se fuori c'è il sole e ogni mattina porta dei fiori alle sorelle. E quando mi chiedono cosa Joe io rispondo sempre mio fratello rincorre i dinosauri.